Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la masterclass di Power BI Desktop barra Power BI Service. Abbiamo visto nel capitolo introductivo un po' come funziona, che cos'è la Power BI Desktop e che cos'è la Service e un po' tutto quello che ne circonda. Abbiamo visto solo un po' di cose, in realtà ci sono più cose dietro al servizio, però adesso le approcciamo pian pianino. Quindi partiamo con una prima lezione e andiamo a vedere effettivamente come si va a fare l'installazione di Power BI. Allora, abbiamo accennato nella scorsa puntata che ci sono due sistemi, uno attraverso l'App Store di Windows, quindi noi potremo andare sul pulsante ricerca di Windows 10 che è qua giù e noi scrivere ad esempio Store di Windows, piuttosto che avete già questo simbolino qui nella barra e lo premete. Quindi se noi premiamo qua, entriamo nello Store di Windows. Qui nella ricerca basterà fare Power BI, facciamo un bel invio, lui ci fa la bella ricerca e ecco che qua compare Power BI Desktop. Allora, questo Store, come vi accennavo nella lezione precedente, a livello aziendale è disattivato, tendenzialmente in tutte le aziende è disattivato, quindi non possiamo proprio fare l'installazione di questa applicazione attraverso lo Store di Windows. Lo Store di Windows ci dà un vantaggio rispetto all'installazione pulita del software come applicazione proprio a parte fuori dallo Store. Il vantaggio è che quando arrivano giù gli aggiornamenti, l'applicazione è possibile mettere le opzioni per aggiornarsi in automatico. Invece quando usiamo quella con l'eseguibile XK, praticamente andiamo a fare proprio noi l'installazione, dobbiamo per forza andare a reinstallarla ogni volta, quindi download e reinstallazione. A me personalmente c'è lo Store di Windows, basta entrare qui, faccio installa e lui poi mi installa il componente e possiamo metterlo dove vogliamo. Adesso non lo vado ad installare perché comunque io l'installazione attraverso lo Store di Windows la sconsiglio. È un tool, uno Store che a me personalmente non è mai piaciuto, però se non volete avere la rottura di scatole, di andare a reinstallare il software, ogni volta che esce un aggiornamento, e tendenzialmente l'aggiornamento è una volta al mese, quindi una volta al mese dovreste fare la reinstallazione del software, e avete disponibilità allo Store di Windows installatelo tranquillamente, tanto non cambia niente tra questa versione e quella che andremo ad installare in questo momento. Quindi qui fate installa, lui lo scarica, lo installa e poi lo mettete, ad esempio andate su Download e Aggiornamenti, vediamo, anzi facciamo Impostazioni, e qui potete dire, vedete su Impostazioni, andate su tre puntini qua su Impostazioni, quali dite, guarda, fai clic qui, attivato, quindi tutte le vostre app si aggiorneranno in automatico, voi non ci pensate più. Facendo così appunto Power BI si installerà e si aggiornerà in automatico poi. Andiamo a vedere invece la parte di installazione del servizio come applicazione proprio pulita. Allora, dobbiamo andare nel browser, adesso facciamo una ricerca perché adesso io ve lo registro adesso, ma poi nel tempo può essere che questa cosa cambi, e spero veramente che, magari non lo so, in futuro, una volta che noi la andiamo a installare, anche l'applicazione normale sia possibile andare ad aggiornarla senza fare la reinstallazione. Comunque andiamo qui, Power BI, perché poi scriviamo Power BI Desktop e facciamo una ricerca, perché poi ci si perde un po' nel sito della Microsoft. Quindi andiamo qua, va benissimo, powerbi.microsoft.com, entriamo qui e ecco che qui, se io, vedete, io vado qua e al primo colpo dico, ah, premo su Scarica, vedete che lui poi mi reindirizza sullo store, ma io, come stavamo dicendo, non lo voglio utilizzare qui e se è disattivato ovviamente poi non riuscite ad andare avanti. Quindi, come si fa a trovare l'eseguibile da installare? Si fa altro che andare in fondo alla pagina, in questo caso qua, andiamo in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, e giù in fondo ecco che compare la sezione Download, eccolo qua, quindi vedete c'è Power BI Desktop, e poi ci sono altre cose, insomma. Noi andiamo qui, facciamo Power BI Desktop, e ritorniamo qui, quindi facciamo, visualizza le opzioni per il download e la lingua, ok, e ci porta a questa schermata qua. Quindi diciamo che anche andando giù, ecco, vedete, hanno cambiato nuovamente, perché prima andavo giù, quando l'ho fatto l'ultima volta, premevo qua e praticamente arrivavo direttamente a questa sezione. Adesso hanno aggiunto, appunto, questa cosa qua, che potete andare a scegliere la lingua, no? Quindi quando arrivate qua, poi entrate in questa schermata qua, e qua scegliete come volete scaricare il software. Di default mette l'inglese, e adesso lo mette in italiano, visto che il canale è, appunto, in italiano, e impariamo a usarlo con questa lingua. Poi, se voi comunque lavorate in un'azienda che lavora anche all'estero, vi consiglio di andare con l'inglese. Anche se seguite altri canali, oltre al mio, che spiegano Power BI, e andate magari su canali esteri, magari installarlo in inglese vi aiuta un pochino, perché avete i nomi che sono uguali a quelli che utilizzano gli altri youtuber. Comunque io lo metto in italiano, perché il mio canale è in italiano. Quindi ecco, io ho premuto là, si ricarica la pagina, scrolliamo, ok? Una volta che ho selezionato l'italiano, io faccio scarica. Poi qua avete anche qualche dettaglio. Questo vi dice quando è l'ultima versione. Vedete, 30 del 7. Questa qui è stata aggiornata il 30 luglio. Quindi quella che io in questo momento ho installata è vecchia rispetto a quella che c'è qua. Poi dice che c'è una versione 64 bit e una 32. Quindi questi sono un po' i dettagli. E qua dice con Power BI, poi vi dà un po' di indicazioni. Poi qua ci sono i requisiti di sistema. Quindi dovete avere almeno Windows 10, istruzione e installazione e basta lanciare appunto l'eseguivo. Quindi noi adesso facciamo un bel scarica. Quando facciamo scarica arriviamo qua e ci fa scegliere il software. Ripeto, X64 è il sistema operativo 64 bit. Non sapete che versione del sistema operativo avete? Andate qui, andate su Explore Risorse, fate un bel tasto destro su questo computer e fate proprietà. Nel momento in cui fate proprietà, qui vi escono delle informazioni. Vedete, tipo di sistema. Sistema operativo a 64 bit. Perfetto. Se avete il 32, qua esce scritto che è 32 bit. Però ormai sono un po' tutti a 64. Sono pochi ormai quelli che restano a 32. Quindi basterà scaricare esclusivamente la versione 64 bit. La 32 non si interessa. Qui andiamo appunto avanti. E ecco che compare poi la finestrina e facciamo il salva file. Eccolo qui che si sta appunto scaricando. E appena il software sarà stato scaricato, vedete qui c'è l'eseguibile EXE. Noi lo lanciamo. Adesso in questo momento, magari voi non ce l'avete ancora installato, però in questo momento vedete che io qui ho l'iconcina del software che è già installato. Quindi sto andando a fare un aggiornamento della mia versione. Quindi che cosa faccio? Non serve andare ad installare questa che sta qua sotto. Lanciamo direttamente l'eseguibile. Vediamo che cosa succede. Praticamente ho lanciato l'eseguibile. Ecco che parte il tool di installazione. Qui lo facciamo oltre che andare avanti. Occhio che qui c'è il simbolino dello scudo. Quindi adesso compare una finestra che non vedete. Io premo sì nella finestra che è appena comparsa. Che la vedo solo io. E qui OBS non mi prende quella finestrina là. Nel momento in cui clicco sì, lui inizia a fare i suoi preparativi. Calcola lo spazio. Esce un'altra finestrina. Eccola qua. Appena finito di fare il calcolo, andiamo avanti. Praticamente voi premete sempre avanti. Anche qua c'è una nota da fare attenzione. Perché intanto andiamo avanti. Qua sentiamo il contratto. Se volete ve lo prendete. Andate avanti. Questo ovviamente lo fate anche se non avete la licenza. Perché poi che voi abbiate la licenza o non abbiate la licenza. Il software è sempre quello. Non è che avete software differenti. Come ad esempio il SQL Server Express. Che è un software. Piuttosto che poi avete il SQL Server Standard. O un interface che cambia un pochino. Comunque qui decidiamo dove installarlo. Facciamo avanti. Lui mette ovviamente il percorso di default. Vi consiglio di non cambiare questo percorso. Facciamo avanti. Qua decidiamo se fare un collegamento sul desktop. E poi facciamo install. Quello che vi stavo dicendo. Mentre si installa così poi vediamo se è funzionato. È che aziendalmente lo store è bloccato. Come vi dicevo prima. Però può essere anche che non possiate fare installazioni di software sul vostro PC. E questo è un po' il problema. Che dicevo che è un peccato che oggi Power BI. Una volta che si è installata. Non sia possibile aggiornarlo come si fa a ZB o con Excel. Quindi qui vi ritrovate praticamente una volta al mese. A dover reinstallare il software. O magari contattare il vostro real desk. Perché voi non avete le grant per installare il software. Allora una cosa che potete fare. È iniziare a ragionare in cloud. Se ne avete la possibilità. Quindi se voi avete un server remoto. Quindi un RDP. Che è praticamente questo simbolino qua giù. Che si fa remote desktop. Connessione desktop remoto. E avete possibilità di acquistare un server. Magari anche in Azure. Ancora meglio. Perché poi quando andremo avanti con le lezioni. Capiremo i vantaggi di lavorare comunque nel cloud. Con tutti i sistemi che stanno là. E lavorate dentro qua. Voi installate il software nel server. Magari siete amministratori. E poi tutti quelli che si collegano. Utilizzano il servizio all'interno del server. Ovviamente con le risorse condivise. Però lo centralizzate in questo modo. Invece così lo state andando ad utilizzare nel vostro PC. Se poi voi avete magari. Se aziendalmente avete i dati. Che sono su. Su delle cartelle di rete. Che magari poi. Voi vi trovate magari non lo so. A Milano. Però il server che tiene dentro i dati. Dell'azienda è a Torino. Quindi cosa dovete fare col vostro PC. Dovete andare con internet. Dovete andare a leggere la share. Quindi magari vi collegate in VPN. Andate a leggere la share. Quindi con il traffico internet. Fate il passaggio di dati. Quindi a maggior ragione. Se appunto avete l'RDP. Un server. Magari il server è dove c'è anche. La folder dove salvati i vostri. I vostri dati. Oppure siete in cloud. Eccetera. Da capire sempre poi. Un po' come lavorate. Però magari siete sullo stesso posto. E quindi va anche un po' più veloce. Comunque queste cosette quali. Riprendiamo più avanti. Adesso era giusto per darvi un accenno. Comunque quando finisce. Vedete. Qui dice via Power BI. Adesso io lo defleggo. E faccio fine. Così io ho finito la mia installazione. Perfetto. Adesso che ho fatto questa cosa qua. Vedete che. Vengo qua. L'applicazione vedete. Sembra che non sia mai sparita. Però se io vado qui e la clicco. In realtà adesso parte appunto. L'applicazione di Power BI. Che è. L'applicazione aggiornata. Quindi. Non ho dovuto fare l'installazione. L'importante è fare sempre. L'installazione pulita. E niente. Poi quando lo avviamo. Abbiamo sempre la solita schermata di. Benvenuto. E qui appunto. Abbiamo un po' di informazioni. Che vediamo la prossima volta. Eventualmente comunque se questa schermata vi dà fastidio. Togliete il flag da questa schermata. Che in modo che non venga più visualizzata. All'avvio. E poi ovviamente facendo X. Ecco che avete la vostra applicazione. Bella. Installata. Se facciamo menu file. Andiamo su informazioni su. Qui vi dà anche a quando è. A quando risale la vostra versione di Power BI. Quindi vedete che dice. Luglio 2021. Probabilmente prossimo mese. La zona non ancora. E qua comparirà. Agosto 2021. E qua avete il numero. Per fare un confronto. Per vedere se appunto. Siete. Allineato. E con l'ultima release. Bene. Ecco una cosa. Qui vedete che io ho i componenti esterni. Perché poi. Quando installeremo i componenti esterni. Non servirà andare a reinstallarli. Ci saranno sempre. Quindi voi questo menu. Per il momento. Non lo vedrete. Lo vediamo più. A avanti. Bene. Con questa lezione è tutto. Spero sia stato di vostro ragradimento. Se così è. Lasciate un bel like al video. Iscrivetevi. Se non siete ancora iscritti. E se volete sostenere il canale. Pensate magari a stipulare un abbonamento. Premendo il bottone. Che è qui sotto. Vi ringrazio molto. Per aver seguito questo video. Ci vediamo alla prossima puntata. A presto. Ciao.